Al di là del teatro civile che può schiudere spazi importanti di riflessione sul contemporaneo, esiste un teatro che si apre direttamente sulla vita, trasformando in simbolo assoluto l'esperienza stessa dell'esistenza. Questa sera al Teatro San Ferdinando si conclude la rassegna Il carcere possibile, che testimonia le vite dei detenuti di dieci istituti di pena campani, tra cui due ospedali psichiatrici giudiziari. Alle 18.30 sarà proiettato il film documentario Caini d'Aversa, a cura di teatri in gestazione, la vicenda di sei uomini reclusi nell'OPG di Aversa che mettono in scena il Caino di Byron. Io penso che è un modo anche per scappare dal dolore. Cioè, io rido ma dentro... no. Alle 20.30 il lavoro morale della favola curato da Pino Carbone, una drammaturgia collettiva nata all'interno dell'OPG di Napoli. Fino a sabato, allo storico Palazzo dell'Iguoro alla Sanità, sarà in scena Pierre Réjean, un testo di Massimiliano Palmese tratto da Guide Maupassant, interpretato da Raffaele Ausiello e Carlo Caracciolo, la vicenda acidula di due fratelli che mette in rilievo la faccia peggiore di una famiglia piccolo-borghese che attraversa il degrado delle illusioni e dei sentimenti. E soltanto sabato 29, serata unica al Teatro Nuovo con i migliori maestri dell'improvvisazione teatrale italiana che si esibiscono in GEM, una sessione di teatro senza copione in cui gli attori inventano sotto gli occhi del pubblico brevi drammaturgie ispirate ai vincoli e alle proposte degli stessi spettatori.